Musica Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e ragazzi alle 9 di oggi si è abbassato ulteriormente il livello dell'acqua Questo vuol dire che è disponibile finalmente la navicella spaziale Quella che troviamo dietro scogliere E sembra che siano anche disponibili finalmente le sfide segrete La prima di queste dovrebbe essere trova la navicella E quindi direi di andarci Come vedete c'è proprio un'isoletta che si è mostrata proprio dietro scogliere Ci avviciniamo e vediamo se ci dà una ricompensa una volta che ci si arriva Ed eccola qua ragazzi, trova la nave antica La numero 1 è stata fatta ragazzi Quindi sfida numero 1 completata Diceva anche di trovare, se non ricordo male, i pezzi della navicella Infatti là vediamo che c'è qualcosa Andiamo a dargli un'occhiatina Se per caso Mi sa che questo qua davanti a noi sa quello che dobbiamo fare Lo seguiamo, lo seguiamo, questo sa quello che dobbiamo fare Credo che andando qua Vai vai build a build a Oh cu Eh beh però devo E infatti Ottieni propulsore ragazzi Per il secondo pezzo invece ragazzi dovete nuovamente raggiungere La L'isoletta con la navicella E come vedete c'è un rumore Dove c'è questa roccia gigante Dovrebbe essere presente il pezzo che stiamo cercando Ed eccolo qua ragazzi Raccogli la batteria Secondo pezzo Trovato Evento sfida Iniziato ragazzi Inizia la sequenza di lancio Stiamo cercando di capire se c'è possibilità Di prendere il terzo pezzo Qualcuno ha qualche idea? Vara la nave Cosa vuol dire vara la nave? Ritorna e installa la parte Vabbè ritorno No Installa propulsore Installa la parte mancante È un po' È un po' un casino da capire ragazzi Però come vedete è tutto qua È Ok due di tre Installa la parte mancante Dicono che vicino alla barchetta Dovrebbe esserci un altro pezzo Ma non so se fosse questo il pezzo No sembra di no Proviamo a riavvicinarci Fatelo in rissa squadre Perché Si capisce molto No qua adesso non si può fare nulla Il terzo pezzo Mi dicono che è a F2 Sotto la roccia Quindi vediamo E comunque ragazzi Vi consiglio di entrare in rissa squadre Perché questa missione Se anche qualcuno Della vostra squadra La fa Ve la conta Quindi entrate in rissa Adesso Provate a farla Perché anche vicino alla barca C'è il terzo pezzo Di Astronave Non vi preoccupate Che vi scriverò In un commento pinnato qua Dove sarà la posizione corretta Leggete i commenti Che potrebbero aiutarvi Quindi Non da punti esperienza Purtroppo Ma la missione è completata E come vedete La barca ragazzi È attiva Io vi ringrazio Per aver guardato questo video Mi raccomando Non dimenticate di lasciare Un bel pollicione in su Iscrivetevi al canale Noi Ci vediamo in live su Twitch Ciao